e ritrovare una forma decente per le Olimpiadi. Abbiamo visto l'atterraggio di Federica Macri, possiamo darvi anche il punteggio per lei, un 11,90. Mentre adesso vediamo impegnata un'atleta della Gran Bretagna, precisamente Rebecca Wing, che è impegnata nel corpo libero. Sì, Rebecca esordisce con un buon doppio salto, un elemento richiesto dal codice per avere le esigenze complete a questo attrezzo. Eccola, impegnata ancora nel suo esercizio, un avvio decisamente incoraggiante. Sì, diciamo che la squadra britannica è dovuta spezzarsi in due, perché ha due importanti contemporanei qui e in Francia, per cui è una squadra non apparentemente competitiva, ma invece è di grande spessore per riuscire a formare due squadre intere da mandare in campo internazionale. Ricordiamo ai telespettatori che tra poco vedremo l'esordio qui a Jesolo di Vanessa Ferrari per questa terza edizione del Trofeo Internazionale Città di Jesolo. Quindi c'è grande attesa per l'atleta di punta, per la ginnasta di punta della Nazionale Azzurra, guidata dal direttore tecnico Vailati. Prosegue nel frattempo il suo esercizio al corpo libero, la ginnasta inglese Rebecca Wing. Eccola che prosegue ancora. Sì, porta avanti, ha fatto 900 gravi di avvitamento. Per concludere così, un esercizio buono, buono, con tutte le richieste del codice, con delle difficoltà non astronomiche, ma fatte con un discreto progetto.